Buonasera a tutti, grazie a Cilento TV che oggi ci gratifica con Gianluca. Siamo qui, come diceva Teresa, al primo appuntamento di Minerva e Donna. Innanzitutto volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di proporre un ricco programma sotto un filone culturale a 360 gradi. Parliamo di tutti, parliamo di amici, parliamo di artisti. Quindi volevo anche dare omaggio al lavoro che si sta facendo con le quattro moschettiere ritornando su Teresa, su Marianna e su Adelaide che spesso è frutto anche di belle peripezie. Oggi siamo qui, partiamo con Minerva e Donna partendo un po' dal contesto della donna che vuole emergere e che delle volte trova qualche difficoltà in più. A maggior ragione se parliamo di donne del sud, se parliamo di donne cilentane. Oggi a raccontarci le proprie storie, a confrontarci saranno con noi Giovanna Voria, chef, contadina, esperta della dieta mediterranea. Maria Rina, chef del ristorante Il Ghiottone. Maria Lagloria, vicepresidente, associazione dieta mediterranea Ancel Case di Pioppi. Maria Ricchiuti, consigliere regionale. Maria Federica Gresta, presidente rete di impresa Mediterranean Experience. Abbiamo chiamato a rapporto anche altre donne che per motivi personali non sono riuscite ad essere... Facciamo sempre una raccolta d'ampioraggio. Ringraziamo comunque tutti che non si sono fatti pregare per essere qui a sostenere questo progetto. Minerva e Donna. Le donne in quanto tali sono chiamate a essere un po' guerriere. Lo devono fare perché il multitasking che ci impongono di fatto necessita di un buon carattere. L'unico consiglio che si può dare è proprio quello di non abbandonarlo mai perché con la perseveranza si possono mettere insieme tante cose e si possono produrre buoni risultati come madri, come mogli, come imprenditrici e come amanti di questo territorio. È un onore qui essere da Mariella e da Davide, la Taverna del Mozzo, per Minerva Donna perché, come dice Mariella, Minerva è donna e noi siamo donne cilentane che ci riteniamo tali. Che devo dire della donna? La donna penso che è la cosa più bella che esiste perché la donna è tutto e la donna riesce a pensare e riesce ad arrivare dove gli altri, non dico chi, non arrivano. Grazie.